Benvenuti all'Hotel Residence Villa Teresa Ischia. A conduzione familiare, l'Hotel Residence Villa Teresa sorge nella località termale di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, e vanta una piscina all'aperto estiva e appartamenti e camere con balcone o terrazza. Decorate con tonalità di blu e mobili in legno, le sistemazioni dispongono di bagno interno. I monolocali si trovano nell'edificio principale o accanto alla piscina e includono un angolo cottura, mentre le camere sono dotate di wifi gratuita e tv. Gli appartamenti localizzati a 100 metri dalla struttura centrale, immersi nei nostri vigneti e nei sentieri campestri offrono una doppia vista. La bellissima piscina, formata da due vasche circolari, è in zona altamente panoramica ed immersa nel verde. Hotel Residence Villa Teresa via Castanito, 76, 80 074 Casamicciola Terme N.A. Telefono 08199 4388.